Molti sono ancora senza reddito e senza lavoro. C'è chi era vicino alla pensione, ma nulla. La chiusura dello zuccherificio del Molise ha lasciato strascichi pesanti. Gli ex lavoratori però non demordono. L'ultimo atto in ordine di tempo di questa vicenda è infinita in una videoconferenza organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti governativi, anche l'Agenzia Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, il senatore Fabrizio Ortis, l'assessore regionale al lavoro Michele Marone, il consigliere regionale Valerio Fontana, il presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Cerniello e i consiglieri Bovio e De Caro, collegata anche a una rappresentanza di ex lavoratori. Dai funzionali del Ministero intervenuti, una curata analisi sia professionale che anagrafica di tutti gli ex dipendenti e la volontà di creare le condizioni per dare futuro alle maestranze ancora disoccupate. Ma è richiesto l'impegno congiunto di Ministero, Regione e Comune, ciascuno per la sua competenza. Per chi ha una maggiore anzianità anagrafica, l'ipotesi più avvalorata è quella di trovare scivoli che li accompagnano alla pensione, ma sempre con politiche attive. Per i più giovani, invece, la necessità di nuova occupazione, ma non con le politiche passive, anche perché, come evidenziato durante la call, i fondi sono tutti destinati a quelle attive. Prima di Natale, un nuovo tavolo per formalizzare le eventuali misure definite. Grazie. Grazie.